Per la prima volta a Gela c'è un infoturist. L'anno ideato e realizzato la Proloquo e il gruppo archeologico Geloi in collaborazione con il Museo archeologico regionale e la Casa del Volontariato nell'ambito delle attività del cantiere Gela. Informazioni utili ai visitatori che raggiungeranno la città del Golfo saranno dispensate dagli studenti delle classi accoglienza dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo. Tutti i visitatori possono venire a prendere le informazioni anche perché sono creati dei percorsi turistici ben stabiliti e questo permetterà al visitatore di poter apprezzare nel modo corretto tutto quello che c'è da vedere nella nostra città. Avete seguito un corso di formazione e che cosa prevede la vostra attività? Di dare informazioni ai turisti che vengono a visitare il nostro museo archeologico noi abbiamo seguito un corso di formazione presso la Casa del Volontariato e siamo stati formati da Giuseppe Laspina e noi con questa formazione ci siamo preparati per accogliere al meglio i nostri turisti. Per un mese noi avremo al museo questi studenti che non solo dovranno conoscere il nostro museo ma anche divulgarlo. Un'operazione che non è sicuramente semplice perché un conto avere delle convinzioni di come è il nostro museo di come è strutturato e qual è la nostra storia ma divulgarlo e trasmetterlo quella che è la loro esperienza degli altri non è una cosa sicuramente semplice. Questo sarà sicuramente un compito proprio teutico che è quello che potrebbe essere anche un'opportunità di lavoro futura per questi ragazzi stessi. Saranno attivati i laboratori collaterali dedicati all'innovazione e nei beni culturali con la partecipazione degli studenti della Liceo Scientifico Elio Vittorini. Abbiamo realizzato due percorsi in particolar modo uno con l'Istituto Alberghiero che riguarda le attività di promozione, di accoglienza all'interno del museo quindi dare anche delle informazioni importanti a quelli che sono i visitatori che verranno durante questa estate l'altro percorso con il Liceo Scientifico che praticamente va a realizzare delle attività di innovazione nell'ambito dei beni culturali. Interamente ragazzi stanno partecipando alle attività e promuovendo un laboratorio, una serie di laboratori per l'innovazione, per eventuali innovazioni da proporre appunto in una vetrina museale con l'interfaccia da potersi realizzare con le moderne tecnologie cellulari o anche iPad e altre tecnologie appunto in cui è possibile applicare tramite software dei sistemi innovativi per la lettura e le fruzioni dell'opera d'arte e in particolare proprio la movimentazione per esempio delle opere d'arte o la realizzazione di ologrammi che consentono appunto una fruibilità a tutti i livelli dei reperti più importanti e più significativi. L'alternanza scuola-lavoro serve proprio a questo, serve a far conoscere al ragazzo il mondo del lavoro l'esperienza scolastica è una cosa, l'esperienza lavorativa è un'altra è il pezzo mancante che la scuola non riesce a dare al ragazzo con l'alternanza riusciamo a colmare questo piccolo...